Non una battuta d'arresto, ma un semplice rallentamento fisiologico del ritmo delle vaccinazioni, dovuto anche ai tanti contagiati delle ultime settimane e alla base della decisione di rimodulare gli orari di apertura dei centri vaccinali della Asla di Pescara, che valuta anche la possibilità di procedere con le immunizzazioni senza ricorrere alla piattaforma per le canoniche prenotazioni, come ha spiegato Vincenzo Ciamponi, direttore generale della Asla di Pescara, durante il sopralluogo al centro vaccinale di Palazzo Fuxas, insieme al presidente dell'Ordine dei Medici e al sindaco e vice sindaco di Pescara. Era l'occasione per fare un po' il punto della situazione. È un'organizzazione che ha funzionato, che sta funzionando e funzionerà e direi di mantenere questa organizzazione perché non sappiamo quello che ci aspetta. Siamo ottimisti ma è bene essere prudenti. C'è questa possibilità? Con il calo eventualmente dei contagi si potrà anche togliere questa prenotazione sulla piattaforma per le vaccinazioni. Dobbiamo dire che stiamo valutando e noi siamo favorevoli a questo. Prenotazione o no, il vaccino comunque non è mai stato negato a nessuno, fa sapere il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale dell'Asla di Pescara. Ci sarà una rimodulazione degli orari degli hub vaccinali dell'Asla di Pescara? Sì, dovuta al ridotto numero di vaccini che stiamo facendo in questo periodo, anche a causa dei tanti positivi che ci sono stati nei giorni passati. La rimodulazione verrà effettuata in tutti i centri vaccinali, ad esempio il Palazzo Fuxas sarà attivo dalla prossima settimana solo il pomeriggio, Scafa e Penne ridurranno a tre sedute la settimana e successivamente a due sedute la settimana. A Città Sant'Angelo invece rimaniamo aperti dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina. Pescara Porta Nuova ancora per il mese di febbraio rimarrà aperta la mattina e il pomeriggio dalle ore 9 alle ore 14 e dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì e così via seguiremo costantemente l'andamento della vaccinazione. Per quanto riguarda invece i dati della vaccinazione che riguardano la popolazione vaccinabile dell'Asla di Pescara, chi è che effettivamente non si è ancora vaccinato? Che numeri avete? I non vaccinati sono 35 mila ancora, però di questi 35 mila una buona parte di questi sono persone che hanno avuto un'immunità naturale con la malattia. Sono comunque numeri da aggiornare? Sì, sono numeri da aggiornare e pensiamo che probabilmente sarà meno del 50%, quindi sui 10-15 mila persone ancora da vaccinare. E sul fronte delle vaccinazioni pediatriche invece come sta andando? Sta andando abbastanza bene, ne abbiamo fatti circa, tra prima e seconda dose, circa 10 mila vaccini pediatrici e nelle prossime settimane tutti i prenotati verranno vaccinati. Dall'inizio dell'emergenza sono stati in tutto 716 mila 58 i vaccini somministrati, nello specifico 267 mila 902 prime dosi e 248 mila 218 seconde dosi, mentre le terze dosi si apprestano a toccare la soglia di 200 mila. Oggi raggiungeremo le 200 mila terze dosi nella provincia di Pescara, equivalenti al 78% della popolazione che ha effettuato la seconda dose.